buongiorno oggi vi vorrei far vedere a conoscere un piatto tipicamente estivo che la panzanella è un'insalata molto ricca che potete poi arricchire come volete allora gli ingredienti principali sono olio aceto sale cipollina tritata e uso quella rossa tipo tropea per intenderci basilico tritato poi abbiamo dei pomodori tagliate pezzettini e del pane rinvenuto in acqua questo è pane secco che è stato messo nell'acqua per farlo rinvenire ed è un ottimo metodo questo per recuperare il pane avanzato poi abbiamo delle cose che ho messo in più diciamo questi qui sono gli ingredienti principali questi invece ne abbiamo voluti mettere per arricchirla sono uova sode tagliate a pezzettini qui abbiamo del formaggio e delle zucchine e peperoni tagliati a pezzetti potete mettere i cetrioli potete metterci delle altre verdure andiamo semplicemente a prendere i pomodori e ci aggiungiamo il nostro pane che ecco io non ho tolto la crosta di solito ci sarebbe da toglierla però siccome mi rincresce buttarla io ce la lascio andiamo a sbriciolare poi il pane una volta che l'abbiamo tolto ne ho tolto l'acqua in eccesso lo andiamo a sbriciolare nei nostri pomodori le quantità le fate a vostro gusto è una semplice insalata tra l'altro molto fresca ma anche sostanziosa poi aggiungiamo tutti gli altri ingredienti forse ci voleva una ciotola più grande e adesso andiamo a condire la nostra insalata un goccino d'aceto e olio extravergine di oliva mischiamo per bene e la nostra panzanella è pronta se questo video vi è piaciuto mettete mi piace e condividete grazie e buona giornata ciao 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 ciao